La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno, buon giovedì a tutti e ben trovati con il nostro appuntamento mattutino con la rassegna stampa di Uno News. Sfogliamo le pagine dei quotidiani, vediamo i principali titoli, andiamo sul mattino nazionale, si parla in apertura delle nuove misure del governo per venire incontro alle esigenze delle famiglie, in particolare per quanto riguarda il caro energia, si parla di una riduzione dei costi dell'energia. Vediamo infatti il titolo, energia calano le bollette, apre così il mattino nazionale, i risparmi riguarderanno il mercato tutelato, luce giù del 20%, scende anche il costo del gas. Per quanto riguarda invece il fisco, sanabili con 200 euro, gli errori lievi su IVA ed F24, entro la fine di ottobre la prima rata. E poi ancora in alto, sempre per le notizie di primo piano, si parla dei fondi del PNRR, la corsa dei sindaci, vogliono i fondi non spesi, diversi i progetti a rischio. Ancora abusivi, legge antioccupazione, condanne fino a nove anni la proposta in Parlamento. Andiamo di fondo, l'analisi, noi e l'Europa, la spinta che serve per non arenarsi e poi la riflessione, babele, trasporti, se l'autonomia penalizza il Sud. L'autonomia differenziata, nella versione del ministro Calderoli, si presenta come un variegato menu a carte di un ristorante politico, nel quale le regioni possono scegliere le pietanze più costose pagando l'imprezzo di saldo di fine stagione. Andiamo avanti, centro pagina, ore di ansia per Papa Francesco, ha un'infezione respiratoria e problemi insorti dopo l'udienza generale, resterà al gemelli ma escluse complicazioni. Per quanto riguarda invece l'emergenza, criminalità o stellari giustizia fuori dagli istituti minori da aiutare. Nella fotonotizia, appello di Irma, ragazzi non andate via, festa a torre annunziata per la testa oro mondiale di box. In basso il calcio, quara Napoli e qui il rinnovo, in arrivo il premio Scudetto, le mosse del club per il finale. Questa squadra non ha bisogno di stimoli economici, ma De Laurentiis annuncerà presto un super premio per lo Scudetto. C'è tempo intanto per parlare di rinnovi. Quara deve attendere giugno, firmerà l'aumento dello stipendio ma a 2,5 milioni di euro, perché il salary cap di De Laurentiis è intoccabile. Andiamo in alto, nei box sotto il titolo di testata, intelligenza artificiale, l'allarme di Musk, pericolo per l'umanità con mille ricercatori. E poi Califano, l'importanza di essere franco e senza pregiudizi a 10 anni dalla morte. Questa è la prima pagina, i titoli sulla prima pagina del mattino nazionale. Vediamo invece i principali titoli per il mattino di Salerno in apertura. L'analisi per quanto riguarda la scuola, l'allarme soprattutto della fuga degli studenti dalle classi. Vediamo il boom degli alunni in fuga, questo è il titolo. Sono 3.811 gli studenti salernitani che frequentano poco o nulla, 302 i segnalati alla procura minorile. Il dossier del provveditorato su dispersione e abbandono, i numeri da paura dopo la pandemia per le scuole salernitane. Restiamo in alto, ancora violenza, botte al senzatetto di Sabile e di Sarno, bufera sui social, poi il bullo si scusa. Per l'evento di Natale le vecchie luci vanno in soffitta, pannoli pronti a cambiare tutto. Andiamo invece di fondo, il delitto di Giffoni, panettieri assassinato, moglie e figlio a processo. E poi ancora per la cronaca il delitto di Salerno, bengalese sgozzato, arrestato un connazionale. Centropagina, manovra finanziaria, cello ok, ma ellite ad inoffi, opposizioni. Siamo a Salerno per il sindaco Napoli sul Fusandola, niente rischi, chi lo dice fa procurato allarme. Passa la manovra finanziaria del comune nel consiglio bis, convocato dopo il flop di lunedì scorso, ma è scontro tra Assessore al bilancio, ad inoffi e le opposizioni, con i 5 Stelle che ne chiedono le dimissioni. Restiamo ancora sulla politica, PD, stallo sul commissario Campano, Caserta, arriva Camusso. Continuiamo nella fotonotizia, energia pulita alle imprese, c'è l'accordo, ecco le batterie di sabbia col brevetto Magaldi, Enel X. In basso invece nelle fotonotizie per il calcio, la serie A, commissioni agli agenti salernitani nella top 10. E poi l'ambiente Sarno-Lagori in campo bonifica entro il 2025. Questi principali titoli per la prima pagina del mattino di Salerno. Vediamo invece le cronache, quali sono i principali temi, aprendo con il consiglio comunale che si è tenuto a Salerno, nel corso del quale si è parlato anche del tema della fusandola. Vediamo caso fusandola, la maggioranza non regge. In quattro si sfilano l'affondo di Cesano e della Pecoraro. Cammarota prima annuncia l'astenzione, poi vota con l'opposizione. Le autorizzazioni ci sono e non ci sono, così prova a rimediare Brigante. Siano, Figliolia, Cosentino e Di Carlo si sono astenuti. Questo è il bilancio del consiglio comunale di Salerno per quanto riguarda anche le votazioni. Andiamo avanti, siamo a parlare di sanità, siamo di spalla. Salerno la denuncia dei sindacati, il servizio del 118 è al collasso, ora azioni di tutela. Di fondo invece l'intervista è il professore Pastore, San Pietro Accorte, unico monumento di architettura civile Longobardo in Europa. Sotto il titolo di testata parliamo ancora del consiglio comunale. I conti non tornano, c'è il bilancio, l'assessore Adinolfi prima rassicura e poi però scappa. E poi la copertura del sindaco, Fondazione Menna, Celano attacca sui rapporti con la Limen. Ancora Salerno a centropagine, il tema vigili, concorso sospetto, si sveglia la CGL, capezzuto, accesso agli atti per garantire la trasparenza delle procedure per le presunte irregolarità in sede di esame. Salerno anni 90, Simona Libera scocozza, Salerno un sistema di potere ramificato, opaco e clientelare. Questa è la denuncia. E ancora andiamo avanti, sempre per quanto riguarda invece in questo caso lo sport, ancora Salerno, Salerno colora la nazionale di basket con Emilia Naddeo, la salernitana con l'Under 16. Nella fotonotizia, in ricordo di Pietro Passamano, le sue battaglie per la nuova università e per l'ospedale, venti anni fa la scomparsa del sindacalista. Per le prossime elezioni amministrative siamo a Scafati, a Liberti scatenato, Scarlato si sente pronto, Grimaldi e Salvati non pervenuti. Queste per le ultime manovre in attesa della presentazione delle liste per le prossime elezioni amministrative di maggio. Lasciamo anche la prima pagina del quotidiano Le Cronache. Torniamo ora sul mattino nazionale, andiamo ad approfondire i temi che abbiamo già visto, partendo dai fondi del PNRR, vediamo con le difficoltà nella spesa. Vediamo il nodo del piano, PNRR, nuovo SOS di Fitto, sfida di Roma e Milano, a noi i fondi non spesi. Il responsabile del recovery, ci sono diversi progetti a rischio, fronte comune di Gualtieri e Sala, Firenze e Venezia, il caso degli Stadi. La linea del governo, meglio affrontare subito certi problemi, ma ci sarà a breve un confronto con l'Europa. La replica di occhiuto della Calabria, dare i soldi a chi li sa utilizzare, significa lasciare indietro un pezzo importante del Paese. Questo per quanto riguarda le richieste provenienti, come abbiamo visto, dai sindaci Gualtieri e Sala, che chiedono di poter utilizzare i fondi che non è stato possibile spendere. Ricordiamo che al sud si stanno registrando le maggiori difficoltà proprio nella realizzazione dei progetti. Vediamo quali sono le parole. Con i commenti hanno detto che i fondi devono andare su scuole, asili e case popolari. Questo è il suggerimento di Renzi. Ancora dobbiamo accelerare, ma siamo nei tempi. Parla così Adolfo Urso e ancora Maurizio Landini. Il governo coinvolga le parti sociali sul recovery. Questo invece è il suggerimento. E poi anche Nicola Zingaretti. Ora basta i chiacchiere e servono investimenti. Andiamo in basso. Le opposizioni all'attacco. Il ministro riferisce in aula trattative aperte con l'Unione Europea. L'ex sottosegretario Demma Mendola. Non si sa cosa accade sui singoli progetti. Non c'è trasparenza. L'esecutivo rilancia. Non temiamo la trattativa. Presenteremo le nostre proposte. Chiudiamo questa pagina. Andiamo avanti. Troviamo sempre sul mattino nazionale anche l'intervista al vicepremier Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture. Vediamo. Userò fino all'ultimo euro e appalti a chilometro zero. Il vicepremier e ministro delle infrastrutture. Richieste dei territori. Serve un'unica regia. Con le nuove norme sulle gare per le opere risparmiamo un anno di tempo. Il leader leghista. Abbiamo già pronti sul tavolo progetti sullo settore idrico e sulle case popolari per 1,6 e 2 miliardi. Così vogliamo disinnescare la paura di firma degli amministratori locali e generare nuovi posti di lavoro. Ancora continuiamo. L'ANAC non ha capito il testo. La soglia a 150 mila euro c'era già nel 2020. Il modello Genova non c'entra commissari in Italia da ridurre. Vediamo una parte dell'articolo. Del PNRR spenderò fino all'ultimo euro sempre che la Commissione europea abbia buon senso. Matteo Salvini rigetta il disfattismo che pare aver colpito il governo dopo la relazione della Corte dei Conti sul piano nazionale di riprese e resilienza e dopo la proroga delle trattative con Bruxelles. Anzi ostenta progetti già pronti sulla sua scrivania al Ministero delle Infrastrutture ma non compresi nel PNRR. 2 miliardi di euro nel settore idrico e 1,6 miliardi per la riqualificazione delle case popolari. In pratica il leader leghista chiede apertamente datemi soldi in più dal monte di 209 miliardi che il Ministro Raffaele Fitto ha spiegato. Non riusciremo a spendere con tanto di abbiura per una volta la bandiera autonomista. Serve una regia nazionale, dice in risposta all'identica richiesta avanzata dai sindaci di Roma e Milano. Andiamo avanti, in basso, scusate, svolta sulle opere pubbliche. Il 98% non prevederà gare, ance, allarme e concorrenze. Il nuovo codice impone l'affidamento sotto i 150 mila euro e la procedura negoziata con inviti sotto i 5,38 milioni. I costruttori si fanno grandi passi avanti ma il 36% dei lavori rischia di essere sottratto al mercato. E chiudiamo anche questa pagina, andiamo avanti ancora sul mattino nazionale. Parliamo invece del tema di apertura, ossia le mosse del governo per ridurre i costi dell'energia alle famiglie. Vediamo le bollette calano ancora, luce meno 20%, giù anche il gas. I risparmi riguarderanno il mercato tutelato verso i rincari su quello libero per i consumatori. Vantaggi di 287 euro all'anno sull'elettricità e di 121 per il metano. Da aprile sui conti energetici dei privati cittadini torneranno a pesare gli oneri di sistema. E vediamo poi la differenza tra tutelato e libero per quanto riguarda il mercato tutelato, sia della luce sia del gas, è quel mercato in cui le tariffe che pagano i consumatori in bolletta sono determinate dall'autorità per l'energia. Ogni tre mesi per la luce, ogni mese per il gas. Su un totale di 29,9 milioni di clienti domestici, 12,4 milioni appartengono ancora al mercato tutelato. Per quanto riguarda invece il mercato libero, sono tutti i consumatori che decidono di lasciare il mercato tutelato, passano nel mercato cosiddetto libero. Si tratta del mercato nel quale le aziende energetiche offrono forniture di gas e luce in concorrenza tra loro. Ogni consumatore può scegliere il fornitore che offre il prezzo migliore. Ad oggi sono 17,5 milioni i clienti che hanno scelto di passare dal tutelato al libero. Andiamo in basso. Tasse sanabili con 200 euro. Gli errori lievi su IVA e F24. C'è tempo fino ad ottobre. Spostata la scadenza per facilitare il pagamento da parte dei contribuenti. Per le cartelle l'adessione alla tregua fiscale è prevista fino al termine del mese di aprile. Chiudiamo anche questa pagina. Ancora andiamo avanti. Parliamo ora invece delle condizioni di Papa Francesco che ha accusato un malore ed è ricoverato al gemelli. Rivediamo Francesco ricoverato, infezione respiratoria, annullati gli impegni. Malore nella residenza Santa Marta alla fine dell'udienza del mercoledì. Escluso il Covid ma i medici ordinano controlli, le preghiere da tutto il mondo. Negativa l'attacca la quale è stato sottoposto dopo una fibrillazione cardiaca. Resterà al gemelli sotto osservazione fino a sabato l'incognita degli appuntamenti per i riti pasquali. Andiamo in basso, appesantito e sofferente, ma il pontefice in carrozzina non pensa alle dimissioni. Quel rapporto conflittuale con i medici, io e i dottori, meglio che ciascuno resti a casa sua. Chiudiamo questa pagina, ci fermiamo ora per qualche minuto di pubblicità, torniamo tra pochissimo, restate con noi. Bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa, vediamo quali sono le notizie che interessano il Salernitano. Siamo sul mattino di Salerno e si parla di scuola, lo abbiamo visto anche dalla prima pagina del mattino di Salerno, con i dati presentati dal provveditorato per quanto riguarda gli abbandoni scolastici. Vediamo la scuola, l'allarme, alunni dispersi, ben 3.811 frequentano poco o nulla. L'abbandono delle lezioni, un fenomeno sempre più grave dopo tre anni di Covid. 302 gli studenti segnalati alla procura, 359 quelli mai visti in classe quest'anno. Il dossier shock del provveditorato, la fuga comincia già all'elementare, ecco la situazione comune per comune. L'abbandono ad anno in corso è la piaga dell'era post-Covid nelle scuole. Il conto dei tre anni di pandemia è pesante, pesantissimo, tra lezioni a singhiozzo, abbandoni conclamati che richiedono l'intervento dei servizi sociali della procura dei minori. L'anno scolastico a due mesi e mezzo dal termine consegna un quadro a tinte fosche sul piano della frequenza scolastica. E poi il piano sicurezza al porto, formazione e controlli, le ore a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito passano complessivamente da 1600 a 2000. La formazione diventa elemento imprescindibile ed improcrastinabile per tutti coloro che lavorano nell'ecosistema porto. Il sistema operativo integrato, SOI, dovrà avere un'attività sempre più operativa in termini di vigilanza e analisi dei cambiamenti positivi che si spera il protocollo cominci a portare da subito al porto di Salerno. Lasciamo questa pagina, andiamo avanti sulla pagina dedicata alle notizie di cronaca. Passiamo in apertura a Giffoni-Valle Piana, vediamo, si torna a parlare dell'omicidio del panettiere. Vediamo panettiere ucciso, moglie e figlio in aula, in corte d'assise, la prima udienza per i due imputati accusati di aver assassinato l'uomo e di averne smembrato il cadavere. La violenza dopo un litigio tra coniugi, poi intervennero i ragazzi della coppia. Il minore verrà giudicato in altra sede. Andiamo a centro pagina. Pizzo alla collega più piccola, Lucio l'ha condannata a tre anni, la vittima costretta a pagare 250 euro ogni settimana, altrimenti ti faccio togliere le figlie dai servizi sociali. Questa è la minaccia. In basso, bengalese sgozzato, preso un connazionale, ma quando l'ho lasciato era ancora vivo. Il 34enne Ahon, incastrato dalle telecamere, è trovato in una baracca sulla Litoranea. Lasciamo questa pagina, andiamo avanti, andiamo sulle pagine della Piana del Sele, dei Vicentini, del Cilento e del Vallo di Diano. In apertura siamo a Buccino, vediamo l'articolo con cui apre oggi su questa pagina il mattino, calore, acciaio e sabbia per il futuro energetico delle imprese innovative. Magaldi ed Enel X hanno presentato il nuovo brevetto pronto ad alimentare stabilimenti con fonti rinnovabili ed ecosostenibili. Vediamo il sole, la sabbia e l'acciaio, i tre elementi che costituiscono la base del brevetto che Magaldi ha realizzato per costruire una tecnologia innovativa e green che si annuncia determinante per spezzare la dipendenza delle imprese dall'uso di gas e favorire la decarbonizzazione. è il sistema MGTES Magaldi Green Thermal Energy Storage, che ieri mattina è stato presentato nello stabilimento di Buccino dal gruppo Magaldi ed Enel X. Andiamo avanti, ha respinto il ricorso della regione, vediamo il ricorso bis della regione, respinto dal TAR, Feola resta commissario del parco, Marcello Feola resta al suo posto il ricorso della regione Campania e il secondo contro la nomina commissario del parco nazionale Cilento Vallo di Diano continua a non ottenere riscontri dinanzi ai giudici del TAR. Ieri l'istanza è stata discussa in sede collegiale e come nella precedente seduta la sospensiva è stata negata. A settembre il TAR entrerà nel merito ma allora secondo le previsioni alla guida dell'ente parco ci sarà il presidente designato Giuseppe Coccorullo. Andiamo avanti, centro pagina, Atena Lucana, alto là dell'ARPAC, mercurio e idrocarburi nelle acque. L'ARPAC ha reso noto i primi dati a diffonderli, è stato il consigliere regionale Corrado Matera. Vediamo quali sono un'attività di monitoraggio condotta a seguito dell'inchiesta Shamar coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Potenza. Dai primi risultati l'attenzione viene posta per quanto riguarda le acque superficiali sul parametro mercurio. Infatti si è verificata una presenza che necessita di ulteriori approfondimenti. I risultati sono stati resi noti dal consigliere regionale Corrado Matera che nei mesi scorsi si era attivato per avviare le opportune verifiche. Le attività di monitoraggio sono state finanziate dalla regione Campania ed è possibile da un apposito emendamento presentato dallo stesso Matera. Vediamo l'altra criticità, è rilevata relativamente alla presenza di idrocarburi anch'essa meritevoli di ulteriori approfondimenti. Andiamo avanti. Timbasso, Rocca Gloriosa paralizzato dopo l'incidente sul lavoro, coniugi napoletani condannati a otto mesi. A Battipaglia, medico unico a Belvedere, l'SOS dei giovani di avanti. Per le notizie invece di spalla, Eboli tenta colpo al market beccato in flagrante, ladro arrestato mentre tenta di entrare in un market per compiere un furto. Pregiudicato, ebolitano, 31enne, è stato preso in flagranza di reato dai carabinieri per furto aggravato. Continuiamo. Castellabate, punta inferno, che è in giunta alla nascita di un approdo. Chiudiamo le pagine del mattino, andiamo invece a vedere quali sono i principali titoli per le cronache, alcuni dei principali argomenti, partendo ancora sulla questione sanità a Eboli, si continua a parlare della crisi dell'ospedale di Eboli. Vediamo che c'è l'appello dei sindacati, in particolare in questo caso interviene la UIL, cacciate i due dirigenti. Questa è la richiesta, sotto accusa la direttrice sanitaria per un documento con cui chiede accorpamenti e così ridimensiona l'ospedale di Eboli. Immediata rimozione dei responsabili delle direzioni sanitarie ed amministrative della DEA, Eboli, Battipaglia, Rocca d'Aspide. La richiesta è firmata dalla UIL FPL e sulla scrivania del direttore generale di LASL di Salerno, Gennaro Sosto. Una richiesta che non sorprende come si evince da un passaggio contenuto nella richiesta stessa. Da molti mesi, si legge infatti nella nota della UIL, nel DEA, Eboli, Battipaglia e Rocca d'Aspide, ma soprattutto nel presidio ospedaliero di Eboli, regna sovrana la confusione sia amministrativa che gestionale, come tra l'altro è del tutto evidente alla luce delle numerevoli recriminazioni che sono esternate dalla maggior parte del personale sia medico che dei ruoli del comparto. Andiamo ancora a Eboli, rete idrica comunale. L'ASIS ha programmato gli interventi, rifacimento di impianti e delle tubature. Centropagina Palomonte, l'azienda Agora S10 inaugura una rete di famiglie affidatari e parte oggi nell'aula consigliare di Palomonte la campagna di sensibilizzazione territoriale. E poi per l'ambiente, giovani volontari e WWF per la pulizia del sele, una giornata dedicata al recupero degli spazi naturali sotto la guida delle guardie ambientali. La cronaca tenta di svaliggiare un negozio arrestato dai carabinieri nella notte. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Eboli hanno arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato Alessio Laventura, pregiudicato trentenne ebolitano. Il giovane era stato sorpreso nella notte tra martedì e mercoledì mentre stava forzando la serratura d'ingresso di un negozio di alimentare nel centro di Eboli. Il pregiudicato ha tentato di fuggire ma è stato bloccato dai militari. e chiudiamo anche questa pagina, andiamo avanti, parliamo ora della comunità montana degli Alburni con lo scontro tra Tommasetti e il presidente della regione. Vediamo. Tommasetti contro De Luca perché non rispettata la parità di genere. L'ex rettore attacca duramente il presidente regionale sullo Tuel e sul rispetto delle quote rosa. Il consigliere della Lega spalleggia Pino Palmieri nella battaglia. Quali sono i provvedimenti adottati per il rispetto della legge? E poi andiamo in basso. Un ponte per la pace tra fiume e campagna. Un confronto tra la comunità ebraica di fiume e l'università popolare interculturale. Lasciamo anche questa pagina. Parliamo ora di sport con la ripresa del campionato dopo la sosta per le gare delle nazionali. Vediamo la Salernitana come si sta preparando. Ancora si punta su Piontek. Vediamo Salernitana, cinque mesi di digiuno per Piontek al picco. Un'altra chance alla Cremonese lo scorso 5 novembre. L'ultimo gol del pistolero che ora trova sulla sua strada lo Spezia, già punito con la Fiorentina. Dopo le ultime due panchine consecutive contro Milano e Bologna, il centroavanti polacco spera di tornare titolare al centro dell'attacco nell'importante sfida salvezza. Sono 21 i tiri scoccati nel 2023 dalla punta senza riuscire a trovare la via della rete. Solo Sotoc ha fatto peggio. E poi è partita intanto la prevendita. 9.189 i biglietti emessi per la gara contro l'Inter. Miglie sono per gli ospiti. Andiamo in basso. L'arbitro designato è l'internazionale Orsato. Di resta il match salvezza con l'Udinese. Il fischietto di Schio conta due precedenti con Granata. L'avversario, lo Spezia, chiama a raccolta i tifosi. Oggi porte aperte. Poi la curiosità. Menichini fa saltare Mario Somma. Il Foggia prende Delio Rossi. Incredibile intreccio di ex Granata in casa rossonera. Questo per la pagina sportiva. Termina qui la nostra rassegna stampa. Vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione alle ore 13.45 con il nostro TG. Grazie per averci seguito. Auguro a tutti una buona giornata. Grazie per averci seguito.